Benvenuti, ben ritrovati. Oggi puntata speciale di The Politicum, non siamo in diretta quindi non vi è consentito purtroppo di interagire con noi come normalmente facciamo in questo spazio informativo, è una trasmissione registrata per vari motivi, soprattutto per consentire agli ospiti di districarsi fra i vari impegni che hanno. Ho tre personalità in studio, a partire certamente dalla prima cittadina di Erice, la sindaca Daniela Toscano, grazie sindaca per essere con noi, ben ritrovata, come va? Grazie per l'invito, abbastanza bene. Ok, poi subito alla mia sinistra ho l'architetto Tonino Pugliesi, esperto nelle temariche della sicurezza del lavoro, uno degli esperti chiamati dal Comune di Erice per l'emergenza da Covid-19. Ben ritrovato, architetto. Grazie a voi per l'invito. Ci siamo visti nell'altro studio qualche settimana dietro, abbiamo affrontato tecnicamente appunto la questione emergenziale, oggi vediamo di soffermarci un po' di più sul territorio. E poi ho il piacere di avere insomma una vincente in studio, gli altri due pure lo sono, ma lei un po' di più, lei è vincente proprio sul campo. Lorena ben in casa, il capitano, la capitana, anzi, diciamo visto che Erice c'è la desinenza di genere, delle arpie, la handball Erice. Lorena, grazie per aver accettato l'invito, sono contento di avere insomma la tua presenza qua in studio. Come va? Grazie a voi per l'invito, tutto bene, siamo ancora qui a Trapani, siamo rimasti qui purtroppo a causa del lockdown, però non ci possiamo lamentare. Beh, magari un po' di vacanza la farete, sì, diciamo. Forse in questi mesi, ma non credo, ma alla fine stare a Trapani è come stare in vacanza, è una città bellissima. Grazie, subito per lo spot promozionale. Grazie, lo spot, vedi, che nasce dal cuore. E allora, avete, beh, meritatamente avete dominato il campionato, vi è stata data poi la promozione d'ufficio, diciamo così, ma era, diciamo, scontato, l'avresti ottenuta certamente proseguendo con le varie partite. Raccontaci subito l'emozione del campionato, ma poi di avere appunto acquisito formalmente la promozione. Beh, diciamo che noi eravamo le favorite per il salto di qualità, non ci siamo mai nascoste, l'abbiamo dichiarato subito. Avremmo preferito vincere sul campo e avere una vittoria sul campo, giusto per festeggiare, però alla fine è arrivata una promozione d'ufficio, siamo contente così. Sicuramente non mancheranno le occasioni per ringraziare i nostri tifosi, i nostri sponsor e soprattutto anche l'amministrazione comunale di Erice, che ci è stata molto vicino. Anzi, colgo subito l'occasione per ringraziare il sindaco, il sindaco e l'assessore allo sport di Erice, che ci hanno fatto pervenire un messaggio durante il lockdown. Grazie per la vicinanza. Assolutamente. Beh, sindaco, insomma è piacevole avere una squadra del comune che si è messa in Serie A. Tra l'altro un ritorno alla grande, dalla grande del volley nell'Ericino, con questo fiore di stagione che è stata fatta e con una squadra eccezionale. Un fiore all'occhiello. Un fiore all'occhiello, un motivo di grande prestigio e tra l'altro, come dicevi, come ricordavi, un ritorno a quella che era stata la storia anche della palestra Pino Cardella, che ricordiamo tutti che è nata per la palla a mano. Allora il professore Mannarà e Nobert, che era suo allievo, c'era questa importante squadra della De Stefano, e da lì ci fu questa, diciamo, condivisione da parte delle amministrazioni precedenti di poter realizzare questa palestra che è nata appunto per la palla a mano. Quindi alla fine tutto si riconduce, diciamo, ad un percorso perché ringrazio anche pubblicamente il dottore Scandariato che si è molto occupato di questa palestra anche negli anni precedenti perché aver, diciamo, fatto questi lavori, questi interventi di riqualificazione su questa palestra ci danno oggi la possibilità di ospitare la handball edice. Vediamo delle immagini, devo fare una precisazione perché mi rendo conto di aver fatto una gaffa, ho detto volley, no, è palla a mano, non c'entra nulla la palla a volo con la palla a mano, c'è giusto che io lo precisi, le immagini parlano più che chiaramente. Loro sono bravissime. Lo sapete, non mi intendo di politica, figuriamoci di sport, è giusto ogni tanto qualche cosa la scafazzo, come si può dire in italiano. Loro sono bravissime, molto toste, non per nulla si chiamano, sono soprannominate le archie e quindi questo è un motivo anche di orgoglio perché insomma si battono sul campo, non per nulla sono in serie A1, quindi speriamo presto che tutto ritorna alla normalità, che si possano disputare queste partite che saranno importanti anche per la visibilità del nostro territorio e della nostra squadra, quindi per noi davvero è un motivo di grande orgoglio, quindi al contrario ringrazio voi per i risultati e per valorizzare quello che è lo sport e che è una mission anche di questa amministrazione, abbiamo sempre puntato in generale sullo sport come un modo per condividere e socializzare anche per i nostri ragazzi e per far sì che seguano dei percorsi virtuosi, tant'è che ne approfitto per dire che non soltanto che le palestre di Erice sono di ottimissimo stato, ma proprio di questi giorni lunedì si inserirà il cantiere per quanto riguarda la realizzazione della palestra della scuola Pagoto e a breve anche la realizzazione della palestra della scuola Gemellini Asta, quindi le palestre sono assolutamente fondamentali per un percorso armonioso e virtuoso dei nostri ragazzi e quindi squadre come la Handball Erice danno un ottimissimo esempio e quindi possono essere da stimolo per i nostri ragazzi a praticare lo sport perché è una di quelle attività che nobilita non soltanto dal punto di vista fisico ma anche per l'equilibrio psico-fisico, quindi è importante. Poi loro lo hanno nobilitato ancora di più il loro modo di porsi, anche di offrirsi alla società, non solo sono delle campionesse certamente, meritatamente sul campo, ma poi durante questo periodo di lockdown, di questa fase emergenziale si sono trasformate e hanno deciso di occuparsi anche di sociale, si sono inventati, diciamo così, sarte in un certo senso. Capitano, ben in casa? Sì, abbiamo dato una mano, abbiamo collaborato con l'associazione benefica Mangiamone Tutti che si occupava di aiutare le famiglie un po' più bisognose e abbiamo dato una mano per quanto riguardava le spese alimentari. Noi ovviamente siamo stati, diciamo, la logistica e il call center, abbiamo coordinato e siamo stati parte attiva di questo progetto. Eravamo anche noi chiuse in casa e è stato un piacere poter collaborare e renderci utili. Assolutamente. Dobbiamo ringraziare naturalmente questo vasto ottoneato, Nobert Biasizio, che è stato l'ispiratore di questo percorso e quindi è giusto che anche pubblicamente venga ringraziato per questo amore, perché ci ha creduto, per questa sua passione che alla fine si è concretizzata. Quindi anche lui è un ottimissimo esempio anche per i nostri ragazzi perché se si crede davvero in qualcosa e ci si impegna per raggiungere l'obiettivo poi alla fine ci si riesce. Io penso, vediamo se il mio pensiero è errato. Obiettivamente quasi non era previsto nell'arco di pochissimi anni, un paio di anni, insomma, che si arrivasse con una squadra del genere a calcare poi i campionati maggiore, la serie maggiore. In un certo senso costringe un esempio come il loro, da Biasizio alla Benincasa, tutto il gruppo sportivo, societario e poi di atleti, costringe un'amministrazione ad adeguarsi. Adesso non si può più far finta di nulla. C'è una squadra in Serie A, bisogna adattare anche un po' i percorsi amministrativi per favorire, immagino, l'attecchimento nel territorio, ma anche una promozione e diffusione stessa dello sport. Assolutamente sì, tra l'altro loro hanno promosso un video bellissimo. Assolutamente, come no? Sono le riprese riguardo all'Elice Centro Storico e quindi come vedi poi si coniugano tante cose. La promozione sicuramente è di quello che è uno sport per noi importante, per cui è nata questa palestra con una squadra di eccellenza, che per noi è motivo di prestigio e di orgoglio e naturalmente le amministrazioni devono essere a disposizione per supportare la squadra, quelle che sono le esigenze di questa squadra, perché ovviamente oltre alle parole poi devono seguire i fatti, ma questo già l'abbiamo fatto. Loro si allenano al Pino Cardella, abbiamo rimodulato in accordo con le altre associazioni sportive, come tu sai, utilizzano il Paracardella, ma è stata una cosa quasi fisiologica, perché le altre associazioni sportive praticando lo sport comprendono benissimo che occorre sostenere e mettere in campo tutto quello che è possibile per sostenere questa squadra, quindi da questo punto di vista né ci siamo tirati indietro né lo faremo. Quindi è uno scambio reciproco appunto. Esattamente sì. Come immagino sia stato uno scambio professionale quello che vi ha portato a collaborare con l'architetto Pugliesi, sindaca? Esattamente sì, l'architetto Pugliesi è una persona molto competente, abbiamo avuto un rapporto di fiducia negli ultimi anni per quello che attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro e anche in questa occasione, soprattutto nella fase 2 della ripresa, ci sta supportando per quello che attiene l'attuazione delle misure di contenimento del contagio e quindi abbiamo un rapporto diretto, magari poi ne parlerà lui più specificatamente, perché abbiamo ripreso pian piano con l'equilibrio, che è quello che è sempre a contraddistinto anche durante la fase di emergenza sanitaria questa amministrazione, nel senso che abbiamo cercato, cercato di avere sempre un tono pacato e equilibrato, quindi non mai oltre misura, proprio perché avevamo una fase assolutamente difficile e complicata e quindi bisognava anche rassicurare la comunità. È superata questa fase, superata per certi aspetti, giusto? Dobbiamo riprendere quella che è la nostra normalità, pur rispettando quelle che sono le misure che provengono da varie di PCM, delle ordinanze regionali, per cui abbiamo aperto pian pianino il mercatino rionale, prima quello contadino, poi il mercatino rionale, abbiamo riaperto i siti culturali, abbiamo aperto il CCR, adesso ci accingiamo a aprire, di questo discutevamo fino a ieri anche i centri di aggregazione sociale, in questo caso mi riferisco a centri sociali, perché anche le persone di una certa età hanno necessità, vogliono, hanno la voglia di rivedersi, quindi seppur con tutte le misure che dovranno rispettare con dei protocolli all'uopo stabiliti, è necessario che noi attiviamo anche queste attività, abbiamo anche dei bellissimi centri sociali, a Napoli, a Ballata, al Centro Storico, al Peppino Impastato, a Rosmini, è giusto che diamo a queste persone la possibilità di rivedersi e socializzare, che è una necessità credo umana, figuriamoci un certo percorso della nostra vita, magari i figli sono tutti impegnati, non c'è dubbio, tra l'altro abbiamo riattivato anche i centri educativi, così come ci viene l'input dal governo nazionale, i centri educativi dell'infanzia che hanno una duplice funzione, che è quella di socializzare, perché anche i nostri bambini, ricordiamo tutti, che sono quelli che hanno, sono stati più, diciamo, le rigidità nei loro confronti sono stati quelli che hanno sofferto più l'isolamento, perché non potevano assolutamente uscire di casa, quindi c'è da una parte questa esigenza di riportare questi nostri bambini e ragazzi alla normalità e dall'altra quella di venire in conto alle famiglie, perché i genitori lavorano e quindi è necessario che si attivano quelli che noi chiamiamo appunto GRES, che sono appunto questi centri educativi per l'infanzia, quindi abbiamo seguito un percorso per i fatti nostri, perché insomma la regione è arrivata un po' molto tardi rispetto anche a questa esigenza, però abbiamo seguito un percorso attraverso il SUAP in modo tale che si presenti un'istanza con una sorta di progetto corredato e che poi questa comunicazione va anche all'ASP in modo tale a garanzia e a tutela dei bambini soprattutto e anche dei genitori che magari vivono queste preoccupazioni in modo tale che l'ASP possa fare i dovuti controlli, quindi tutto nel pieno rispetto delle regole e soprattutto con un sano equilibrio, perché credo che questa vicenda che purtroppo ci ha fatto comprendere tante cose vada comunque vissuta, narrata con quell'equilibrio che è assolutamente necessario per trasmettere anche una certa serenità e tranquillità in un momento assolutamente difficile e drammatico che stiamo tuttora attraversando e mi rivolgo insomma, mi riferisco alle attività commerciali, magari questa è una prossima domanda e lascio il tempo giustamente anche all'architetto Pugliesi. Beh, architetto Pugliesi, lei si occupa tantissimo giustamente per professione di tra virgolette educare, spiegare le normative, insomma anche le ultime recenti in materia di Covid-19 alle aziende, credo che sia tutto sommato semplice, no? L'azienda ha necessità di mettersi in regola, di adeguarsi alle norme, arriva un consulente un aspetto come lei e c'è buona disponibilità, o altre buona volontà dall'altro lato per recepire. È più difficile avere a che fare spiegare queste cose invece quando c'è a che fare con la burocrazia di un ente pubblico? Devo dire di no, nel senso io forse sono stato fortunato, nel senso io ho avuto la possibilità di incontrare intanto tutti i dirigenti dei vari settori, però abbiamo deciso non di imporre regole dall'alto, di fare in modo che queste regole che sono dettate da situazioni contingenti attuali fossero recepite dal personale non come delle costrizioni, ma come un modo superante anche per tutelare loro stessi, perché ovviamente anche il singolo indicato ha delle problematiche comportamentali in relazione al pubblico, l'apertura al pubblico, i servizi che devono essere erogati, dall'altra parte ci sono i professionisti, gli utenti che hanno bisogno di portare avanti la loro attività lavorativa e devo dire che tutti quanti abbiamo portato avanti questo progetto di collaborazione, per cui tutti con umiltà, abbiamo fatto le riunioni con i vari dirigenti che sono responsabili dei vari settori, che devono contestualizzare questo protocollo Covid, quindi per gli utenti, gli accessi, eccetera, eccetera, ma io sono stato, il numero ce l'hanno pure i dipendenti, che mi chiamano, disquisiamo anche i sospetti banali su quelli dei servizi igienici, su come rapportarsi con l'utente, i distanziamenti, per esempio molto problematico il discorso dei rapporti dei servizi sociali, che devono avere contatti anche con bambini, con persone disagiate, per cui come rapportarsi... Andiamo nello specifico, lì come funziona? E lì c'è il problema, ecco ci sono degli incontri che sono ovviamente prolungati e quindi il dipendente era preoccupato sul discorso della sicurezza, se doveva andarci con una mascherina, come un marziano, no, noi abbiamo detto semplicemente di rispettare le semplici regole di distanziamento, di areggiare l'ambiente, di pulirlo costantemente con i prodotti, come ci siamo detti l'altra volta, pulire la postazione, la sedia dove l'operatore c'è, il personale che si rapporta con l'utente in maniera responsabile capisce benissimo, ecco, che anche pulire la sedia, pulire la postazione, mettere la mascherina è un modo per autodidarsi, è una utente quelle informazioni rispettando le distanze, magari prendere degli appuntamenti, fare in modo che nella stanza ci siano solo quelle due persone che interloquiscono, ci vuole un po' di buona volontà da parte di tutti. Secondo me, se questo viene visto anche da parte dell'utente, con le informative, con le giuste, perché ovviamente i rapporti sociali impongono anche un modo di rapportarsi educato, sicuramente, e questo devo dire che gli impiegati, i dirigenti del settore, questo ce l'hanno nel loro DNA, devo dire che tutto sommato stiamo lavorando bene, ripeto, perché è fondamentale non arrivare come l'esperto che si è sul piedistallo, che è detta le regole, no, il problema è sedersi su un tavolo, i dirigenti del Comunità sono persone eccezionali, ma lo dico perché c'è quel sindaco, ma su questo l'ho avuto sempre, il sindaco, devo dire che con molta delicatezza neanche si è fatto vedere, perché ha rispetto ai suoi dirigenti, ma soprattutto la cosa fondamentale è il rapporto con tutti, dal tempo impiegato a quello che sta in portineria, il quale appena entro mi ferma, mi dice architetto, si igienizzi le mani, si mette la mascherina, ed è giusto così, io devo dare l'esempio, tutti diamo l'esempio, e questo è un esempio di partecipazione, sono arrivate la cartellonistica Covid l'altro giorno con un impiegato comunale, l'abbiamo insieme messo con umiltà, appiccicato di noi stessi, perché non ci poniamo su un piedistallo, ma secondo me è quello l'aspetto fondamentale, cioè la partecipazione, perché se il professionista o chiunque esso sia si mette su un piedistallo, le imposizioni non funzionano, io sono per il dialogo, ma è un discorso probabilmente personale di approccio, lo faccio con i privati e l'ho sempre fatto con le pubbliche amministrazioni. Beh, quindi insomma cambia anche la mentalità, ormai questo l'abbiamo assolutato oggi. Assolutamente sì, assolutamente sì, e devo dire che ormai l'utente è preparato, l'impiegato comunale esso stesso è stato un utente, esso stesso va al panificio, va in farmacia, rispetta le distanze, rispetta le file, per cui già è abituato. Gli facciamo capire quelle regole comportamentali, che già conoscono bene, ma ripeto, io devo dire piacevolmente che ho avuto da parte dei soggetti dell'amministrazione una totale partecipazione, il mio numero ce l'hanno tutti, per cui io non mi ergo, no, non mi chiamate, perché sono no, ma assolutamente no, perché ripeto, lo scopo è quello di, anche l'impiegato che magari aveva delle diffidenze, che io rispetto e che capisco, si interloquisce, vado là, si discute, si trovano le giuste misure, perché non dimentichiamoci che l'umiltà comporta anche il dialogo e a volte anche dal suggerimento dell'impiegato possono venire delle correzioni al sistema che tu stai gestendo, perché questo l'intescambio è la cosa fondamentale, perché come ho detto l'altra volta, diffidate dagli esperti Covid, noi siamo tecnici di seconda mano, che leggiamo, ci informiamo e che ci confrontiamo, perché a me, se o il sindaco o qualcuno mi suggerisce qualcosa, perché no? Io lo accetto, la contestualizzo, a volte la critico e non la condivido e la vado poi adattare a quella che è la situazione. C'è qualcosa su cui non siete stati d'accordo con l'amministrazione? Diciamo magari dobbiamo per forza, faccio un esempio, dobbiamo per forza aprire subito le spiagge perché la gente, no guarda sindaco, forse è meglio... No, allora, io capisco... Sorride, la sindaca sorride. No, no, io capisco, io sono molto, io diciamo caratterialmente non sono mai uno che tende a compiacere, se tu mi chiedi un parere ti dico il mio, questo l'ho fatto sempre, per cui io non devo dire quello che penso, ma è giusto così, ma soprattutto devo cercare di applicare la normativa. Il discorso della spiaggia o anche dei centri sociali, c'è ovviamente la pressione degli anziani che giustamente hanno una necessità, perché per loro è la vita, stare loro è un modo perché persone in età avanzata che giocano a carte... No, me ne parlate, mia madre e mio padre, vanno ogni sabato e domenica a ballare e sono lì, si sentono disperati. Da nipote, da figlio, capisco che è un momento importante, perché persone che magari hanno, sono attive, il centro sociale, Peppino è un centro sociale molto attivo, dire signori miei stiamo attento, valutiamo bene le cose, è importante, perché così noi ci rapiamo, però ci siamo detti, sì, ma ricordiamoci che si tratta di fasce di età che sono a rischio, e giocare a carte, come si fa a giocare a carte distanti, bisogna stare vicini, ballare come si fa, come si fa, noi abbiamo discusso anche di queste cose che stiamo cercando di dire no, 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 vediamo di risolverlo, abbiamo affrontato qualche anno fa, per esempio, il centro Peppino e Impastato... Una domanda, scusate, Cicero Prodomosua, in questo caso una cosa che interessa pure a me, ne approfitto delle tecniche... No, assolutamente, sono qua. Se tutte le normative, insomma, ho letto, lo faccio perché avendo pure un giornale da distribuire, mi devo informare, le normative, le direttive INAIL impediscono in un certo senso la diffusione dei giornali su carta stampata nei luoghi pubblici, no, ci sono determinati parametri, il giornale lo metti dopo tre ore, come si fa allora? Se io non posso, io per esempio il locale News per ora, ve lo dico ufficiale, non può uscire perché ci è impedito, siamo ritenuti veicolo di contagio, non solo noi, ma tutti i giornali, quindi aspettiamo che si smetta di pensare che tutto proceda per il meglio, quindi per ora il giornale è solo online. Mi chiedo io, e con le carte, giocare a carte come si fa? Se io devo dare il giornale e devo aspettare tre ore per farlo leggere a un altro utente, perché questo dice la direttiva INAIL, cioè io tocco il giornale, allora devo posarlo, dopo tre ore può arrivare la sindaca e toccare, come si fa con le carte? È molto difficile, pensate per esempio il discorso delle biblioteche, qualcuno mi dice mettiamo i libri in quarantena, poi andiamo sul serio del faceto e dico alla fine bisogna igienizzarsi le mani, purtroppo c'è una contraddizione anche a livello nazionale, che io da questo punto di vista sono contrario, perché si può andare a ballare, però poi non si può andare a scuola, la sasperazione delle cose, si può giocare a calcio. Si può giocare, però il discorso degli anziani, perché ci preoccupa? Io voglio tutelare anche lo stesso sindaco, perché dire sì, attenzione che si tratta di fasce d'età deboli, abbiamo sentito a livello nazionale cosa è successo con le case di cura, quindi è facile dire sì, perché bisogna compiacere la gente, però bisogna farlo con attenzione, quindi probabilmente si studieranno delle misure, però è difficile responsabilizzare gli anziani, perché non è che c'è un datore di lavoro che li sta a controllare, a richiamare, siamo come i picciridi che giocano le carte, non ci può dire non giocare a pallone, stai attento, giocano e quindi poi se uno non li controlla, quelli poi nascono le risse, le situazioni. Ora, nel canzale non ci sono le risse, però si gioca da vicino, c'è contatto, brindiamo, portiamo i dolcini, sono situazioni delicate, perché si tratta di fasce d'età, per cui dal punto di vista umano, e ti dico apriamo perché i poveretti non possono stare a casa, però dal punto di vista tecnico dobbiamo studiare bene. Quindi diciamolo guardando la telecamera, quando riaprono i centri sociali? Non lo sapremo, non lo sappiamo. I centri sociali apriranno, come ha detto benissimo l'archietto Pugliesi, quando avremmo studiato quelle misure che riterrà o riterremo idonee per garantire in sicurezza la fruizione del centro, quindi ha ragione. Io infatti dopo tante telefonate mi sono subito sentita con l'archietto Pugliesi, perché da una parte c'è la volontà ovviamente di aprire, dall'altra c'è la preoccupazione di tutelare queste persone, già che abbiamo visto che le persone di una certa età sono quelle maggiormente colpite, quindi bisogna fare molta e molta attenzione, così come ero fondamentalmente anche preoccupata per i centri educativi, quindi è si tratta dei bambini, anche lì bisogna rispettare delle misure molto rigide e ben precise, ma questo non sono delle esagerazioni, perché vorrei ricordare a tutti con la pacatezza che mi ha contraddistinto in questi mesi nell'affrontare questa emergenza sanitaria, che non è che il contagio sia terminato, siamo riusciti a contenerlo per fortuna, perché tutta una serie di misure molto drastiche che ci hanno costretta l'isolamento, ma bisogna sempre ricordare che qualche volta mi sono confrontata con il dottore Pedalino, che come sapete è l'epidemiologo per un confronto anche, non è che il contagio non c'è più, quindi dobbiamo abituarci a convivere e a saperlo gestire, quindi anche una sorta di autovalutazione del rischio, cioè quindi ciascuno di noi, come diceva l'architetto, in maniera responsabile e con un senso grande di responsabilità e soprattutto di consapevolezza, deve anche un attimino valutare il rischio, quindi questa forma di autovalutazione che ci accompagnerà fino a quando non riusciranno, speriamo presto, a trovare delle risposte certe per contrastare il contagio da Covid-19, noi dobbiamo adottarle, ma questo è a tutela e a sicurezza di tutti, quindi questo passaggio non va dimenticato, non siamo tutti liberi e possiamo fare quello che vogliamo. Mi porta questo ragionamento a fare una domanda alla nostra capitana, in questi giorni in alcune parti d'Europa già lo sport ha ripreso, insomma a giocarsi sul campo, ieri proprio in Italia si è ripreso con il calcio soprattutto, a settembre teoricamente riparte il campionato di palla a mano, siete preoccupate? C'è qualcosa che vi lascia un po' perplesso o la voglia di ritornare a giocare, insomma vi fa dimenticare appunto la paura del contagio? Allora noi sicuramente abbiamo tanta voglia di tornare sul campo, però capiamo anche che il nostro è uno sport di contatto e nel nostro sport c'è tanto contatto, al momento noi non abbiamo ripreso gli allenamenti, ci stavamo allenando individualmente ognuno con quello che riesce, però ovviamente pensando a tutto quello che è successo in Italia, è successo nel mondo, qualche pensiero in più lo facciamo. La nostra federazione sta facendo piccoli passi verso la normalizzazione, al momento ci sono ancora tante restrizioni che non ci permettono di allenarci ancora in gruppo, gruppetti di due o tre persone in palestra, diciamo che non è allenarsi, non è allenarsi di squadra. Speriamo che da qui a quando cominceremo la preparazione, noi più o meno dovremmo cominciare a fine luglio, qualcosa si smuoverà ovviamente in maniera positiva e ci permetterà a tutti, ma non solo a noi, a tutti di poter riprendere una sorta di vita normale. Senti, se ci riesci a far capire che ci sta seguendo soprattutto i ragazzini e le ragazzine, quanto è bello, diverso questo sport dove voi siete insomma delle protagoniste. Lo sport è... Da queste parti in Italia il calcio soprattutto, la valla canessa, insomma, poi per quello che ne so io insomma, dalle nostre parti appunto prima dicevo il volley, la palla a volo, poi arriva la palla a mano che era già una realtà nel passato, avete sconvolto un po' diciamo così l'immaginario collettivo, cioè le abitudini, quindi magari non tutti sanno che invece è uno sport bellissimo, anche se vedo che vengono sempre più persone a seguirvi, ho visto la stagione scorsa. Pochi lo sanno, ma la palla a mano è il secondo sport più praticato in Europa a livello femminile, quindi siamo una nuova realtà. Io invito tutti ragazzini e ragazzine a venire alle nostre partite, venire a vedere almeno di che sport stiamo parlando e poi si appassioneranno perché tutti noi siamo partiti dalle scuole elementari, scuole medie e ci tengo a dire una cosa, il nostro motto societario è Nemo Relinquatur, cioè nessuno rimarrà da solo e questo si tratta sia per noi giocatrici ma anche per i nostri sponsor che hanno fatto tanto e stanno facendo tanto per noi come squadra e noi cercheremo nel nostro piccolo di non lasciare nessuno indietro. Bella, insomma, mi piace, insomma, condivido il messaggio che la nostra capitana ha lanciato all'Urbi e Torbe, diciamo così, attraverso internet, Tele Sud arriva ovunque, certamente. E con lo sport? E' lì come siamo messi appunto. E con lo sport? Noi con il dottor Scandaiato, il dirigente del Comune, abbiamo fatto un po' il giro di alcune strutture che sono state affidate ad alcune associazioni, devo dire che abbiamo avuto un incontro con i mari responsabili, abbiamo chiarito le cose e li ho trovati molto preparati. Così non l'abbiamo lì. Ma non si può ritornare a giocare a calcetto nei campi di questi privati, per esempio? Questi stiamo lavorando, ci stiamo lavorando perché alcuni praticamente sono recentati e affidati a comitati di quartiere, bisogna verificare come gestirli. Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, ripeto, perché non è apriamo così, ma dobbiamo contestualizzare ogni situazione. Per fortuna le associazioni che gestiscono questi impianti sono il bocciodrome, eccetera, eccetera, li ho trovati veramente pronti, aperti al dialogo e quindi credo che avremo ben presto delle piacevole sorprese per tutti. Ci stiamo lavorando veramente bene. Non è utile che mi voglio sbilanciare perché mi piace sbilanciarmi quando ho concrete soluzioni, ma non voglio fare slogan o cose del genere. Certo, e fa bene. Facciamo una giusta comunicazione, non illudiamo nessuno, così come nei centri sociali faremo di tutto perché nessuno vuole dire no. Però già gli anziani lo sanno, per esempio, perché ballavano la sera, noi li abbiamo bloccati, il sindaco ha fatto fare dei lavori adeguamente, oggi finalmente possono ballare, oggi no, ma dico quando le cose, però c'è l'ambulanza, ci sono una persona che sente male di un'accudita, i responsabili antincendio, le porte di evacuazione, sistemi di allarme, insicurezza, perché poi quando succede il fattaccio non sapremo niente, le normative ci sono e noi abbiamo l'autorizzazione dei vigili del fuoco, abbiamo l'autorizzazione degli organi preposti, è impopolare, però si lavora così. Credo che insomma, noi abbiamo affrontato già una tematica importante, che è quella legata a due, più tematiche, anzi non solo una, quella dello sport, degli atleti professionisti, ma anche degli amatori, appunto menzionavo prima le partitelle classiche del giovedì sera di calcetto, chissà quando potremo ritornare a vedere gli appassionati giocare, spero a breve. E gli anziani che ballano, che giocano a carte, centri sociali, adesso affronteremo in maniera un po' più specifica la tematica dei bambini, il Grest, il ritorno alle scuole. Però immagino che, visto che siamo insomma in un periodo estivo, ormai pochi giorni scatto ufficialmente l'estate 2020, il grosso delle perplessità per i cittadini, per gli utenti sia quello legato alla usufruzione delle spiagge. Sul Trapani, ormai l'abbiamo capito, c'è questa intenzione di valutare la ventosità appunto delle giornate, inibendo più o meno l'accesso alle spiagge libere. Su Elice la sindaca non si è sposta, anzi diciamo che magari in una telefonata intercorsa fra me e lei mi diceva, ora vediamo se conferma, no, noi forse stiamo valutando una soluzione diversa, stessa problematica differente tra un comune e l'altro che si toccano, che sono poi lo stesso territorio, appunto Trapani, il mercato del giovedì continua a non tenersi, oggi è giovedì e non c'è stato il mercatino classico del giovedì, a Elice invece ormai è operativo da più settimane. Perché queste differenze tra un quartiere e l'altro dello stesso territorio? Intanto vorrei ricordare un attimino che le responsabilità sono in capo ai sindaci, i quali giustamente... Allora, e che quindi significa che la Toscana è responsabile rispetto a tranquilla? No, no, che in grande senso le responsabilità devono valutare e contestualizzare anche l'avvio delle attività, perché una cosa, e permetto di dire, è l'avvio del mercatino rionale di Casa Santa. Una cosa è l'avvio del mercatino rionale di Trapani, che è molto più grande, più difficile da gestire, eccetera, immagino, però questo non saprei perché giustamente ognuno ha fatto le proprie valutazioni all'interno del territorio. Certamente il nostro si snoda lungo alla fine una via e quindi è molto facile per certi aspetti garantire la presenza attraverso i nostri volontari e quindi diciamo l'osservanza delle regole, perché basta posizionare questi volontari attraverso le vie di accesso e abbiamo una certa impostazione e un certo controllo. Immagino che sia più complicato, però questa è una mia valutazione, quindi come dire, dovreste chiedere... Per quanto riguarda la spiaggia, è anche lì un tema molto delicato, noi abbiamo ampiamente dibattuto in seno all'Aggiunta, ma anche con l'architetto Pugliesi, è una questione abbastanza complessa che non si può liquidare così. Di fatto aspettavamo delle linee guida univoche e chiare da parte della regione, che non sono arrivate. Come sindaci dei comuni costieri abbiamo fatto le pressioni sull'Anci, finalmente c'è stato questo incontro organizzato da Anci Sicilia con tutti i comuni, tutti i sindaci dei comuni costieri. Ad oggi non è che abbiamo, diciamo, delle linee guida univoche, a differenza di tante altre regioni hanno fatto addirittura dei manifesti uguali per tutti i comuni costieri, appunto per evitare quello che tu stessi dicevi, che ci fossero difformità e che fosse una sorta di torre di babbele. Quello che noi abbiamo preparato in video, in immagine? Sì, lo puoi mandare. Facciamo vedere, regia, questo manifesto che ci ha fatto. Ecco, questo qua? Sì, questo è il manifesto perché abbiamo acquistato cinque pensilline in legno. Spieghiamolo, cittadini, se spiaggia, se spiaggia, parliamo barco 1. Che significa? Allora, barco 1 sono le entrate, le entrate praticamente, l'accesso alla spiaggia, che saranno tra l'altro contrassegnate con delle passatoie che stanno per arrivare. Quindi avremo questi varchi e quindi la gente dovrà, diciamo, entrare in spiaggia attraverso questi varchi. Sul lato destro vengono posizionate queste pensilline dove saranno affissi appunto questi manifesti. Da una parte c'è il regolamento della spiaggia, quindi la frizione della spiaggia che noi onestamente non ce l'ha mai stato, ma che è corretto e giusto che sia così perché ci sono delle regole da rispettare per chi appunto frequenta la spiaggia. Questa rimarrà comunque sempre, quindi cosa si può fare in spiaggia, eccetera, eccetera. La parte destra è dedicata praticamente alle misure anti-covid e l'abbiamo messa sulla destra in modo tale che un domani possiamo utilizzare questo grande manifesto che è stato in Forex e che quindi potremmo poi affiggere per esempio questo è un'analisi delle acque e tutto quello che riguarda il mare e la spiaggia. E queste le abbiamo mutuate insieme con l'archietto Pugliesi che me le ha suggerite perché era assolutamente importante per rendere le persone appunto, ritorniamo al discorso di prima, consapevoli del rischio e le misure che devono adottare. Naturalmente poi c'è una postilla, non tu sei la vista giù scritta, che è magari scritto piccolino, non si vede, dove in qualche maniera pensiamo anche di simulare le persone a una sorta di autodeterminazione, di buonsenso rispetto alle misure che dovranno rispettare. Dopodiché organizzeremo la spiaggia suddivisa per settori e quindi per corridoi per evitare che ci si possa incontrare. Capisco che è una cosa molto complessa e per quello che prevedono praticamente le normative vigente ogni 10 metri quadri noi posizioneremo dei sacchi di viuta riempiti di sabbia, magari con delle estampigliature dove c'è scritto spiaggia di San Giuliano o mano di San Giuliano, vediamo. È una forma indicativa, quindi noi diciamo 10 metri quadri per quanto riguarda il posizionamento dell'ombrellone, altre misure all'interno di questi 10 metri quadri se tu vai con il lettino oppure con il telo. Senti, Sindaca, se arriva a Baldarotta, lo so, e mi dice guarda io me ne frego, mi voglio mettere qua. È complicato, noi ora abbiamo una riunione a mezzogiorno e poi a luna in prefettura, appunto spiagge sicure, tra l'altro il comune di ieri è stato destinatario di un finanziamento per potenziare soprattutto il controllo, quindi ho destinato queste somme soprattutto alla Polizia Municipale, ma sicuramente ci dobbiamo fare coadjuvare anche dalle volontarie della protezione civile. Il che non è semplice perché per tutto occorre anche le risorse economiche, noi siamo come tutti i comuni d'Italia senza ancora l'approvazione del bilancio, su cui abbiamo quasi finito, quindi a breve andrà in giunta, ma comunque dobbiamo approvarlo, quindi considera che tutte le risorse che avevamo a disposizione, veramente abbiamo raschiato il fondo del barile, le abbiamo tutte utilizzate per il contenimento durante la fase di pandemia, quindi sanificazione, disinfestazione, tutto quello che era necessario fare, le macchie che giravano, tutto quello che è stato necessario per convincere le persone a rimanere a casa, quindi siamo senza bilancio, senza un euro, parliamoci chiaramente, ma è così, ma come tutti i comuni, non abbiamo avuto al momento nessun ristoro, se non una piccola somma dedicata alla protezione civile, dopodiché abbiamo agito autonomamente tutti i comuni, mi auguro che questo venga preso in considerazione, perché i comuni attraversano una fase molto delicata e difficile, noi abbiamo la fortuna, davvero questo lo posso dire, grazie anche all'occulatezza e alla precisione e alla preparazione dei nostri dirigenti, in particolare mi riferisco al dottore Pugliesi che è il dirigente dell'ufficio ragioneria, quindi il nostro è un comune solido, noi siamo tra una gradatoria che analizza comuni fino a 400, noi siamo al 120esimo posto per liquidità, questo è un comune che ha soldi in cassa significa, e ciò significa anche che abbiamo avuto sempre la possibilità di pagare, ed è un dovere e diritto da parte l'impresa di pagare le imprese non entro 30 giorni ma addirittura entro 18 giorni, motivo per il quale onestamente dovunque andiamo, per esempio anche per quanto concede gli impianti di conferimento non abbiamo avuto mai problemi perché paghiamo subito, ma perché c'è stata una gestione sempre oculata e molto misurata di quella che è appunto la cosa pubblica, i soldi sono dei cittadini e quindi dobbiamo dare contezza sempre di quello che facciamo e di come vengono utilizzate queste somme. Comuni senza soldi, in grave difficoltà finanziarie, già non navigano mai i locali in acque placide, c'è sempre il mare agitato, dopo l'emergenza da Covid-19 il mare è diventato proprio così agitato da essere appunto in tempesta. Per quanto riguarda Erice, problemi su problemi, adesso affrontiamo la questione funierice e anche poi l'accesso ad Erice, Erice proprio Erice lassù, che è insomma uno dei borghi più belli d'Italia. Mi sento con la sindaca sempre nei giorni precedenti anche per organizzare questa trasmissione, mi dico sindaca ma che si fa con Erice? Fate ripartire l'economia, le stisce blu, la funierice. Nicola, comunque la gente non sta salendo ad Erice, problema? No, non è impostata proprio così. Io la faccio grave, io la faccio grave, drammatica. La faccio drammatica. No, io tra l'altro per natura sono una persona ottimista, è guai a non esserlo, quindi nonostante le mie varie vicissitudini personali rimango comunque un inguaribile ottimista, credo che bisogna avere fiducia nella vita che è un grande dono e quindi con questa ispirazione dobbiamo sempre misurare il nostro operato e protenderlo appunto verso questi obiettivi e dobbiamo essere assolutamente positivi, perché è guai se non lo fossero in questa fase difficile. Però di fatto i numeri vanno in questa direzione che dicevo io. Cosa ha fatto l'amministrazione? Intanto noi, pur non sapendo come sarebbe andata a finire, perché a maggio, prima di maggio non è che si sapeva ancora nulla, quindi eravamo ancora nel pieno della pandemia, del lockdown, dell'isolamento e quant'altro. Pur non di meno noi ci siamo attrezzati, nel senso che abbiamo messo assieme una serie di soggetti importanti, parlo del centro storico in questo momento, soprattutto soggetti economici, che potessero garantire dal punto di vista economico una promozione di quello che è il nostro borgo, che è un'eccellenza, lo sappiamo tutti, noi facciamo parte dei borghi più belli d'Italia e quindi di Sicilia e quindi abbiamo diverse vetrine. Però per la prima volta una cosa che ho avuto assolutamente positiva è che questo magari è servito accelerato, accelerato a seguito appunto di questa emergenza sanitaria, ma è un percorso assolutamente virtuoso nel quale io credo moltissimo, perché non è tanto per dire, ma tanto per dire una frase già fatta, l'unione fa la forza. Quindi se mettiamo assieme, facciamo sinergia tra diversi attori e protagonisti, quindi la Funieri, la Fondazione Scientifica Ettore Majorana, Montagna del Signore, la Fondazione Erice Art, il CAI, il Baiuolo, che raccoglie circa 70-80 attività commerciali che insistono nel centro storico, se noi mettiamo assieme tutto questo noi riusciamo a raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo è quello di essere più professionali, quindi vendere Erice con la sua bellezza, la sua storia, i suoi percorsi naturalistici, il suo incanto, tutto quello che noi sappiamo che rappresenta Erice, ma occorre puntare sulla professionalità, per questo ci siamo affidati ad un professionista e abbiamo iniziato un percorso. Martedì avremo l'ultimo incontro, la proposta... Professionista di che? L'ultimo incontro con questi attori, noi ci siamo visti sin dall'inizio attraverso... Professionista di che? Professionista di che cosa? La gestione di un sito e di una piattaforma, che è assolutamente fondamentale, che a Erice non avevamo, quindi non può essere slegato ognuno per i fatti propri, deve esserci una piattaforma, una, che parla e narra la storia del nostro borgo e quelle che sono appunto le bellezze... Non è un po' tardi ormai. E che è importante? No, non è un po' tardi, dico. No, assolutamente no. Guardate in che senso? Tardi, tardi, no. Ma noi nel piano della pandemia non penso che potevamo fare diversamente, noi ci abbiamo iniziato già fino ad aprile, prima di maggio, anzi siamo stati veramente, ci siamo portati avanti. Tra l'altro, dico, martedì è l'ultimo incontro e promuoveremo quella che definiamo anche sul suggerimento del dottor Lorenzo Zichichi, che ci ha dato veramente la presenza prestigiosa e importante, anche dei suggerimenti assolutamente fondamentali, una sorta di passaporto per Erice. Quindi con 10 euro accederanno ai siti culturali e in più ci sarà il tragitto con la funivia. Per questo motivo la funivia è stata assolutamente fondamentale perché rappresenta comunque un attrattore e quindi non potevamo fare a meno di questo impianto di risalita, di discesa, insomma, e non potevamo farne a meno, motivo per il quale l'amministrazione si è impegnata non perché aspettasse quelle polemiche che sono state un contributo che non c'è spettacione. Ma la scelta con l'altro socio, con il Libero Consorzio, sin dall'inizio, è stata quella, diciamo, di riattivare l'impianto e purtroppo sappiamo tutti che il Libero Consorzio non ha le risorse economiche e che quindi il Comune di Erice si sarebbe... Poi non è vero, sfatiamolo questo mito, non è vero che il Libero Consorzio non ha le risorse economiche, non le mette a disposizione, sono cose diverse. Non è più come prima, molte delle risorse, molti tagli, ci sono stati dei trasferimenti nazionali e regionali, sono molto asfittici, diciamo, già siamo asfittici pure noi, voglio dire, figuriamoci il Libero Consorzio che, insomma, sono stati operati dei tagli importanti, bisogna dire le cose per come stanno. Pur non di meno, noi abbiamo garantito vuoto per pieno, nel senso che il dottore Fauci, finalmente, dopo un lungo percorso, ci ha dato tutti i dati, le varie ipotesi, chiusura, non chiusura, quanti mesi, eccetera, e quindi abbiamo avuto contezza del costo mensile dell'apertura dell'impianto, 90 mila euro, quindi tra luce, sanificazione, i dipendenti e quant'altro. Due mesi di apertura sono stati per la sua. Noi ci impegniamo per 180 mila euro, poi vediamo se nel mese di, cioè è una situazione sempre in evoluzione, quindi non sappiamo se realmente questo turismo come partirà, può darsi che si sposterà a settembre, ottobre e quindi potremmo garantire i nostri percorsi bellissimi, naturalistici, con il CAI, dobbiamo vedere, quindi stiamo lavorando, ma dobbiamo essere assolutamente fiduciosi che c'è stato un percorso importante, così come permetto di dire una cosa in cui abbiamo creduto, per la prima volta tutti i sindaci della provincia e anche questo percorso virtuoso del distretto turistico, perché l'aver messo assieme tanti sindaci che prima erano assolutamente, ragionavano ognuno per conto proprio, invece adesso abbiamo un'idea che noi siamo sindaci di un territorio che va valorizzato e narrato il territorio, non il singolo comune, che sicuramente è un valore aggiunto, ma questo poi va specificato ulteriormente, ma noi come lo spot che si è visto da Antone Caraibi, cosa narra? Narra un territorio che può essere qualunque parte del nostro territorio, che comunque rappresenta un'eccellenza, una bellezza indescrivibile e che noi in questi anni non siamo mai riusciti a valorizzare, appunto perché non siamo stati assieme, invece il fatto di vederci assieme è assolutamente importante perché condividere anche con gli altri sindaci non solo questo percorso, ma anche percorsi, magari tu conoscevi il sindaco così, per sentire o dire, ma diciamo non lo, non sapevi il sindaco dell'altra parte dell'Ebelice, magari non ti eri mai confrontato, invece attraverso questa veramente sinergia importante ci confrontiamo anche su altre cose, ma intanto partiamo da questo, perché questo spot che abbiamo visto, che prevede anche la creazione di una pagina Facebook, di un sito e quant'altro, questo l'abbiamo ottenuto attraverso le economie della gara più grossa, dove i comuni hanno investito con delle cifre importanti e che ha vinto questa società, adesso non mi ricordo, carte peste, una cosa del genere, bravissimi, sono degli esperti e quindi non bisogna dare giudizi, non essendo competenti in materia di promozione del territorio e che questo praticamente stanno lavorando e noi avremo finalmente questa importante destinazione che è la Sicilia occidentale. Purtroppo il fatto che ci ha visti isolati, come abbiamo visto, ci ha isolati realmente poi da tutti gli altri contesti di promozione, invece il trovare questa forza unica anche nel confronto virtuoso, devo dire che la dottoressa Rosalia Dali è stata bravissima e anche tutto il continuo di amministrazione sono state delle persone veramente eccezionali che hanno creduto fino in fondo perché in tutte le cose ci sono momenti di depurezza. Forza, 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 vabbè, da settembre speriamo insomma ritornano a giocare le arpie, arriveranno atlete e persone insomma da buona parte d'Italia nel territorio e lì il comune dice come farà la sua parte, non solo per evitare le arpie ma... Concorderemo con il loro Presidente tutte quelle azioni che saranno necessarie ad accogliere questi sportivi, le loro famiglie presumiamo che verranno a visitare Edice, noi per noi è assolutamente fondamentale promuovere questo tipo di attività che comunque a parte diciamo la questione sportiva e il lato sportivo comunque promuovono un territorio e che quindi non possiamo che benediciarne. Cosa vi aspettate dall'amministrazione? Lì ospiteremo a Edice, vedremo di trovare delle soluzioni che siano significativi perché poi diciamo io alle cose di forma credo poco, sostanzialmente. Vediamo cosa si aspettano loro. Noi diciamo che la società ha lavorato in questi mesi per allestire una rosa competitiva ovviamente i nuovi innesti saranno poi, sarà la nostra detta alla comunicazione, la dottoressa Vittoria Benante a renderli noti, noi ci aspettiamo di fare... Ma la capitana sei soddisfatta di come si sta appomentando la società per i nuovi innesti? Devo dire la verità, hanno fatto degli ottimi acquisti, ovviamente sarà sempre il campo a dire. Certo, però già partite con una consapevolezza. Noi vogliamo essere protagonisti, quindi non vogliamo essere la comparsa, anche perché vogliamo portare ovviamente il nome di Erice in giro per l'Italia e vogliamo avere, comunque vogliamo fare la nostra figura, anche perché è un bellissimo territorio questo della Sicilia, questo di Erice e ne vale veramente la pena visitarlo. Quindi penso che molta gente verrà... E quindi, capisco che insomma da professionista non puoi esporti su questioni tecniche e amministrative, però ti aspetti qualcosa in più da questo comune, sì o no? Diciamo che ci sono stati tanto vicini e hanno fatto già tanto per noi. Ovviamente tutto quello che faranno per noi sarà ben lieto, però dobbiamo anche noi in qualche modo ricambiare tutto quello che ci hanno già dato. Eh già, questo è lo spirito giusto con il quale si può proseguire certamente in lungo e in largo. Archivetto Pugliese, le scuole, gli asili nido, le scuole materne, non voglio ovviamente essere nei panni di un sindaco o uno qualsiasi, in questo caso la sindaca di Erice che da sempre, lei prima era assessora della pubblica istruzione quando c'era tranquita sindaco, quindi sempre si è prodigata per le scuole, uno dei suoi principali vanti. Erice abbiamo le scuole più belle del mondo. Erano la più belle perché abbiamo altri per me. Inizia a snocciolare finanziamenti e cose varie. Però adesso c'è questo problema, già la fine d'anno i bambini, mia figlia per esempio che non si può fare manco la foto a finale di fine anno, non si capisce se si potrà e come si potrà ritornare negli asili nido intanto, poi nelle scuole dell'infanzia. Archivetto Pugliese, come ci rinziamo? È molto difficile perché le normative di riferimento sono molto restrittive. Io l'altro giorno ho ricevuto una telefonata di una mia cliente che è una struttura privata che non faccio nomi per correttezza e piangeva perché non può per esempio per la stagione estiva, vista la situazione, aprire. Perché mi dice come faccio a garantire un operatore ogni 5 bambini? È un esborso economico non indifferente. Quindi lasciamo stare, fra l'altro hai fatto molti investimenti per preparare la struttura, i genizzanti, tutto quello che era possibile. In interrompo potrebbero intervenire con il contributo IMSS, molti genitori stanno facendo un accesso al contributo IMSS per poi pagare le strutture perché effettivamente i costi sono limitati. Sono limitati, anche perché giustamente mi poneva il problema che una struttura che deve avere il personale in regola, che deve fare tutto quello che è giusto che sia e per garantire questo servizio non ce la fa economicamente. Questo vale anche per l'incertezza che abbiamo per le scuole. Io ho una bambina di 10 anni che adesso si affronta ad andare alle scuole medie. È un problema difficile. Abbiamo delle restrizioni, purtroppo le normative, che ci impongono. Abbiamo poco da poter organizzare. Cercare di sfruttare il più possibile l'area all'aperto. Abbiamo la fortuna di avere la stagione, diciamo, mite che sono più estese rispetto al resto d'Italia. Questo ci può aiutare, spazio all'aperto. Però i problemi sicuramente ci sono. Però si sta ragionando su doppi turni, terzi turni. Come funziona il sindaco? Ora, il discorso è dei doppi turni. Immaginatevi poi per un asilo un genitore che deve lasciare al mattino ai bimbi a scuola, minuti contati, si mette primo turno, secondo turno. Come fa? Dove li lascia i bambini? Quindi è difficile gestire questa situazione. Cioè, da punto di vista pratico, i turni, bellissimo, 10 bambini da quest'ora a quest'ora. A parole è facile. A parole, infatti, come si fa? Giustamente ti dice un genitore al mattino che deve andare a lavorare in ufficio, un impiegato comunale, un libro professionista, che magari ha pure lui, diciamo, migliorare i contati, e dopo li lascia a questi bambini. Poi li deve andare a prendere alle 11 e poi... Non è poi facile. Infatti per questo dico, le normative nazionali a volte non tengono conto degli aspetti reali. E mi sembra un controsenso che si vada in discoteca, che è giusto che ci sia, perché è il divertimento. Non si può ballare. Però, dico, e poi le scuole, tutte queste restrizioni. Secondo me bisogna, in questo momento, fare poco, rispettare le regole. Non possiamo... Sì, non rispettare le regole, però al momento si riapre la scuola. Ma se non escono le direttive nazionali che ci permettono di avere delle... Ma un'idea la SIDA caccia l'avrà. Intanto. Poi magari non si può attuare, però... Allora, su questo, diciamo che la fase... Ci credo che ci pensate a settembre. La fase 2 è una sorta di corsa d'ostapoli. Ci stiamo lavorando, io il discorso, dico lì, sia per quanto è il pubblico che è il privato. Ci stiamo lavorando, l'indirizzo è quello di cercare di trovare... Perché poi la normativa ti dice, preferibilmente un operatore su 5. Preferibilmente non è un obbligo. Non è un obbligo. Però poi bisogna vedere, gli organi ispettivi, come intendono questa... Perché stiamo anche vedendo poi la chiave di lettura di chi farà i controlli. Perché se chi farà i controlli poi mi dice, no, devono essere 5, io consiglio a un cliente, vabbè, se non sono 5 non fa niente, però poi che facciamo? Per questi per i servizi ai dettagli che sta meglio. Quindi è una situazione, perché ripeto, è popolare dire fai, però poi gli organi ispettivi, come si comporteranno da questo punto di vista? Quindi bisogna sedersi a un tavolo, interloquire con l'ASP, con gli organi preposti ai controlli per capire quali sono le direttive. Ma è plausibile, la butto così, ma una domanda non è nemmeno una proposta. Beh, venga lo suggerimento. No, no, non suggerimento, è una domanda. No, no, non è un suggerimento, è una domanda. Io non si faccio il proprio lavoro. Ma è ipotizzabile, insomma, trovare altri immobili dove allocare delle classi. Su questo ti rispondo, siamo in una situazione molto difficile. Ti spiego perché. Tutto questo, diciamo, sempre con lo spirito di consentire che i locali frequentati dai nostri ragazzi, anche per chi ci lavora, gli insegnanti, i docenti e quant'altro, siano in sicurezza, noi abbiamo sempre investito e quindi abbiamo lavorato per avere ultimo dei finanziamenti. Pertanto, in virtù di questi finanziamenti ottenuti, mi parla di un milione e mezzo di euro, è previsto che iniziano i lavori a una delle scuole più popolose dal punto di vista appunto degli alunni, che è la scuola Trentapiedi di via Cesaro. E lì la situazione è molto complessa, sono 700 alunni, e quale dovrei trovare una soluzione alternativa. Ne posso dire alla vita. Aspetta, poi aggiungo io. Ok, metti che il comune la trova, comunque le insegnanti non le assume il comune, è giusto? Quindi come si fa un casino? No, dovremmo spostare questi alunni in altri locali. Abbiamo girato, il dottore Scandariato sta facendo una serie di verifiche in altri locali, cosa non semplice, perché comunque i lavori devono essere attivati. Tra l'altro si tratta di lavori abbastanza complessi, perché si tratta di adeguamento sismico ed efficientemente energetico, ma quelli più invasivi sarebbero, qua c'è l'architetto, quelli che riguardano l'adeguamento sismico. Ma noi siamo obbligati, c'è una ditta che ha vinto la gara di appalto e deve assolutamente iniziare. Abbiamo pensato di farli con percorsi di sicurezza, con gli alunni in alcuni padiglioni, perché sapete la scuola di Trentapiedi è realizzata a padiglioni, ma è complicato gestire questa cosa con i lavori e con gli alunni dentro. L'abbiamo già sperimentato in un'altra scuola, è stato faticoso anche per i genitori, per i ragazzi, per tutti. Anche perché la ditta rallenta naturalmente di lavoro, a volte che la ditta entra dentro in un anno, soffrava un anno, il problema è che purtroppo andrà a capitare nel pieno dell'emergenza sanitaria. Quindi questa è la cosa che dobbiamo vedere, quindi già abbiamo un bel casotto lì che dobbiamo risolvere e stiamo girando un po' di strutture, soprattutto negli ambienti della chiesa. Quest'altra cosa, giustamente, ci abbiamo pensato, però dobbiamo aspettare quelle che sono le disposizioni, perché in mancanza di disposizioni lavoriamo sul nulla, quindi vedremo poi le regole per il distanziamento. Noi per esempio in quasi tutte le scuole abbiamo acquistato, quindi nel rinnovamento dell'arredi e quant'altro, i banchi doppi, quindi non quelli monoposto. E questo è complicato, perché i ragazzini che sono allo stesso banco e devo dire che se noi ci troviamo in difficoltà noi, con le cose che dicevi tu, rilacciandomi alle cose che dicevi tu, che abbiamo le scuole tutte riqualificate, con ambienti molto grandi, aule grandi, eccetera, e già ci troviamo in difficoltà, immagino qualche altro comune come potrà mai mettere in pratica quello che diceva esattamente l'architetto, è una cosa veramente complicatissima. Va bene. Vedremo come rovellarci a breve, penso, perché credo che reggiamo le settimane. Speriamo che ci siano altri stati generali da dove partoriscono delle informazioni un po' più. Certo, comprendo l'attenzione, perché bisogna essere, penso che l'onestate intellettuale deve contraddistinguere sempre le persone, non è semplice anche per chi governa, decidere rispetto a quella che è, diciamo, la cosa fondamentale, cioè di tutelare la salute pubblica. Quindi non è semplicissimo assumere delle decisioni, tra l'altro molto complicate, che hanno una serie di refluenze dirette sui cittadini, sui ragazzi, quindi non è semplicissimo. Io mi metto anche nei panni del governo e capisco che non è assolutamente una cosa semplice. e quindi non mi lascio, mi sono mai lasciato andare a valutazioni così, diciamo, sommarie, perché non è giusto. Stiamo vivendo un momento veramente inaspettato, inusuale, non sappiamo come descriverlo, per cui bisogna avere rispetto anche di chi ci mette la faccia, nel bene e nel male. Va bene, noi abbiamo avuto tutta l'Italia, l'abbiamo asportato in tutto il mondo, questo slogan, il mantra, andrà tutto bene, ci hanno fatto pure una canzone, sfruttando questo nostro mantra tutto italico, andrà tutto bene. Obiettivamente non è che stia andando proprio tutto così bene, soprattutto economicamente, per vari motivi che affronteremo magari in un'altra trasmissione dedicata agli aspetti drammatici dell'economia. Però lo slogan è piaciuto e comunque ci ha dato coraggio. Ne approfitto per chiedere alla nostra capitana se c'è un urlo particolare che le ragazze si usano per incitarsi, per caricarsi quando scendono in campo, quando mettono a segno un punto. C'è? Mi dispiace deludersi, quello rimane nello spogliatoio. Siamo molto scaramantica, però... Perfetto, vabbè, non insisto allora, però già il fatto che essi, insomma... Va bene, dobbiamo chiudere. Ti do un minutino per così libero. A me. Eh sì. Io vi ringrazio innanzitutto per l'invito, ringrazio... Continuo a ringraziare l'amministrazione comunale di Erice e il sindaco qui presente. Ringrazio la mia società che sta facendo tanto e continuerà a fare tanto per noi come squadra, ma soprattutto per il territorio, perché ci sono tanti progetti che non sta a me oggi dirli, ma sarà poi la società a svelarli. E vi aspetto tutti al Palacardella, sperando che andrà tutto. Riempiamolo questo Palacardella, che se lo meritano le ragazze. Lo riempiremo, lo riempiremo. Riempiamolo, riempiamolo. O mai a settembre, incrociamo le dita che si possa riprendere, non tanto per loro, ma proprio perché vuol dire che siamo un po' più salvi da questa emergenza pandemica. Per cui tutti al Palacardella la settembre in poi. Architetto Pugliese, un minuto per rasserenare, lo vuole? Sì, diciamo che compatibilmente con quelle che sono le restrizioni attuali, sicuramente io credo che da qui in avanti avremo la possibilità di aprire strutture che fino adesso non potevano aprire, sicuramente anche attraverso studi, che come dicevo benessendo, che al di là delle battute, ovviamente bisogna mettersi nei panni di chi deve decidere. E noi tecnici che dobbiamo dare suggerimenti non possiamo accontentare il tizio che ci chiede delle informazioni sull'apertura o meno di un'attività. Dobbiamo essere tecnici e valutare caso per caso. Ma sicuramente credo che gli sporsi li stiamo facendo, stiamo cercando tutti quanti di trovare delle soluzioni, come ripeto, che siano un giusto equilibrio tra il rispetto delle regole e la salvaguardia degli utenti e poi la soddisfazione di quelle esigenze di carattere pratico, sociali, economiche, tutto quello che c'è. Sicuramente l'impegno è questo. Io ogni giorno leggo con attenzione, cercando di trovare il cavillo, in questo caso per aiutare l'utente, per aiutare la gente. Trovi i cavilli per far ritornare in giro il giornale, il locale news. Ma quello per me, io lo trovo. Lunedì abbiamo un riunione, la sconcichiamo. Mi chiedesse qualcosa, io ho idea, ce l'ho. Eh no, no, lunedì allora... Mi chiederei le mani, leggerei il giornale, dopodiché lo vado a riporre senza... Eh, lo capisco. Però è una mia... Mi sono molto così diretta... Lunedì abbiamo un riunione, la sconcichiamo. Va bene. Chiudiamo. Sindaca, no, 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 domandaci ho qua, non è libero il minutino. Però forse è la stessa cosa, vediamo se siamo... Non credo perché vado totalmente da un'altra parte. Esatto, esattamente. Avete scelto, vi siete aperti con il Presidente del Consiglio Comunale, all'opposizione, che poi non è stata più opposizione, a Luigi Nacci, e ieri la Vicepresidenza, beh, tra virgolette, ha un oppositore, insomma, di questa amministrazione, il Consigliere Cinque Stelle, Alessandro Barracco. Ma che strategia è? Chiudiamo il mio rano, sì, ma... No, no, tu tendi da bravo giornalista a confondere le idee. Queste sono dinamiche del tutto consigliari, per cui è giusto avere rispetto di quelle che sono le dinamiche consigliari. Hanno scelto, giusto o sbagliato, che andasse all'opposizione. Realmente è stato sempre così, nel senso che un'opposizione che fa il suo lavoro, che punga l'amministrazione, ha diritto ad avere un suo rappresentante, assolutamente la Vicepresidenza, storicamente è andata sempre all'opposizione. È stata una scelta univoca da parte del Consiglio Comunale. Mi auguro buon lavoro. Non ho nient'altro da aggiungere rispetto a questa dinamica. C'è qualcosa che non va nel PD consigliare, però. Anche se... No, siamo lavorando. Domani abbiamo l'Assemblea Provinciale, dove sarà formalmente... Un nuovo segretario, la nuova Presidente. Un nuovo segretario che è Domenico Venuti, Dottore Venuti. Quindi iniziamo... Sono abbastanza fiducioso. Abbiamo ad Elice la nuova segretaria, giovane, brillante, con la quale ci siamo, diciamo, confrontati. Un clima assolutamente disteso. Poi, parlando, le cose si chiariscono. Mi piacerebbe, ne approfitto, insomma, anche da questi studi, per lanciare un appello alla dottoressa Marepia Angileri, che è una bellissima persona. Purtroppo le cose, diciamo, sono andate in un certo modo, però mi piacerebbe che ci fosse di nuovo un confronto schietto e sincero, così come quello che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto. E se posso, direttore, che esilo un po' dai contenuti... Un minuto. ...che abbiamo affrontato, volevo approfittare di un minuto, perché ieri in Consiglio Comunale è successo un po' un qualcosa, diciamo, sicuramente di non bello neanche a vedersi. Quindi, da parte mia, l'invito è quello di abbassare i toni e di limitarci a quelli che sono i problemi e le questioni che riguardano la città. I cittadini non sono assolutamente interessati ad altro. Ci hanno chiamato sindaco, assessori, consiglieri comunali, solo esclusivamente per questo. Io ieri ho commesso un errore, perché sono caduta, diciamo, in un... E quindi, quello che è successo mi è dispiaciuto e quindi ne approfitto per chiedere scusa alla mia comunità, perché ovviamente non è stato un bel regarsi. E quindi, l'appello, quello, l'invito, diciamo, di abbassare tutti i toni e concentrarsi tutti, perché anche il Consiglio Comunale ha un ruolo fondamentale, non è un, diciamo, un organo a sé stante dove si può dire, si può fare quello che si vuole. Io credo che il Consiglio Comunale abbia un ruolo nobile, importante, previsto dalle nostre normative ed un ruolo importante che deve essere rispettato. Va bene, me ne vado di filosofia, di saggezza, ma la barba bianca, ogni tanto mi sento di poterlo dire. Cito un pezzettino di una canzone di Michael Jackson, Man in the Mirror, L'uomo nello specchio. Cioè, il ritornello dice così, If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Traduco, se vuoi che il mondo diventi un posto migliore, guardati allo specchio e fai il tuo primo cambiamento. A buon intendere poche parole. Grazie. Questa è stata De Politicum inregistrata e abbiamo affrontato da diversi punti di vista la questione emergenziale, ma non solo. Il piacere davvero di avere, e mi complimento ancora per l'ottimo campionato disputato, il capitano della Handball Erice, le arpie ericine, che sono certo e faranno ben parlare di loro nel prossimo campionato, così come hanno fatto in questo appena trascorso. Grazie all'architetto pugliese per essere ancora una volta messosi a disposizione della nostra emittente, quindi a vostra disposizione. E grazie alla Sindera Toscana per aver dato un po' di tempo alla collettività ericina per incontrarli attraverso i nostri studi. A voi tutti. Arrivederci. Arrivederci.